Adrano ha ricordato questa mattina i suoi martiri antifascisti che hanno perso la vita nei lager nazisti, conservando per sempre i propri ideali che oggi sono custoditi nello scrigno della memoria. Su iniziativa dell'amministrazione comunale, come ogni anno, è stato ricordato il sacrificio del professore Adranita Carmelo Salanitro, condannato e poi ucciso per mano dei nazisti per aver portato avanti il pensiero della pace durante la seconda guerra mondiale. Vista l'attuale emergenza sanitaria è stata una cerimonia semplice che si è svolta come sempre all'interno della villa comunale, dinanzi il mezzo busto di Salanitro. Qui è stata deposta da due agenti della polizia municipale una corona dall'oro, resi anche omaggi floreali, presenti il sindaco Angelo Dagate, la sua giunta e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Il sentimento è sempre forte, non abbiamo coinvolto tante persone, specialmente i giovani perché il periodo non ce lo permette, però non ci possiamo neanche permettere di dimenticare. Dobbiamo ricordare, è un evento importante, in questi giorni si dice che la memoria è la radice del nostro futuro, abbiamo ricordato questo momento brutto della storia, frutto della follia nazifascista, affinché possa consolidarsi nei nostri cuori e nelle nostre menti il rispetto, la tolleranza, il rispetto per gli altri e per la dignità dell'uomo, al di là della sua appartenenza politica, religiosa, della sua razza o del colore della sua pelle. E' questo il messaggio, in particolare dico di Carmelo Salanitro, ma in rappresentanza di tutti, che è stato un popolare, un antifascista, una persona che aveva il culto dell'uomo e della dignità umana al centro di ogni azione per l'appunto umana e sociale. Questo è il messaggio, un messaggio di pace, un messaggio di solidarietà e di tolleranza. Da qualche anno, accanto al mezzo busto di Carmelo Salanitro, sono ricordati con i nomi scritti su una targa anche gli altri martiri antifascisti adraniti, Alfio Caruso, Alfio Longo, Giovanni Stissi e Ignazio Zappalà, tutti internati nel campo di sterminio di Mauthausen in Austria. Presente questa mattina anche la signora Pina Alberio, nipote di Alfio Longo, morto il 9 giugno del 1945 a soli pochi giorni dalla liberazione dal campo di concentramento. Io ho anche un parente qua, praticamente un fratello di mia mamma, si tratta di Longo Alfio, perché era nello stesso campo di concentramento di Dover Salanitro Mauthausen, perché a Mauthausen c'erano solo due, cioè io mi sono fatta anche una ricerca, poi farò ricontrollare questa lapide. Da Mauthausen c'era lui e mio zio. Lui ovviamente, come ho detto prima, non è riuscito a salvarsi perché l'hanno eliminato qualche giorno prima, mentre mio zio, non era lui un politico, l'hanno preso per caso in una retata a Roma, l'hanno preso anche perché non c'entrava niente perché lui stava facendo il militare in quel periodo, un ragazzo di 22 anni ed è finito in questo campo. È uscito vivo sì, perché per un bel ragazzo grande e tante cose non è riuscito perché si arrivavano a un certo peso, a un certo l'invornavano, quindi è riuscito a salvarsi. Purtroppo scendo fuori c'erano anche le persone attorno che vedevano questi scheletri che camminavano, gli hanno fatto mangiare un biscotto, gli volevano dare da mangiare non solo a lui, anche a tanti altri che uscivano scheletri da là dentro e lui purtroppo l'ha mangiato perché da fame certo era tanta. Gli hanno detto non devo mangiare, vedi, perché l'hanno avvisato anche in questo campo, non mangiato, non mangiato appena uscito di qua, mangiato lentamente, dovevano cominciare a mangiare come neonato praticamente, perché non avevano più lo stomaco. Lui dice che gli ha solo detto ma che mi dice non sono morto di fame, fino a ora morirò per un biscotto, è morto per un biscotto. Gli è venuta, non so ora, non mi viene come si chiama la malattia. Il messaggio è che io, siccome ci sono cresciuta, vissuta in questa situazione, io sono vissuta con i miei nonni, i genitori di questo ragazzo e so la pena e so che cosa significava? Io ho visto praticamente morire mia nonna di crepa cuore, solo perché lei non mangiava, rifiutava di mangiare perché non diceva altro, come mi potete dire mangia, mangia, perché mia mamma rassillava per farla mangiare a una mamma, se ho avuto un figlio che è morto di fame. Mi cominciava da ragazzina, non lo capivo, ma crescendo ho cominciato a capire, quindi volevo dire anche agli altri, ai giovani, a chi non ci crede, a chi non le sa, cercare di interessarsi, di stare attenti e di seguire, di ascoltare quello che gli dicono gli altri, a scuola, nelle varie cose, ci deve essere qualcuno che porta, perché vedo che c'è poco, se si sa poco o non si vuole sapere, si sa poco secondo me.